Sì, 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 ecco. Ciao, Vatelina. Ciao. Lascia la codina, io non la tocco più. No, no. Non si tocca perché il resto li metto di qua. Allora, vedi, non c'è sto rispetto perché poi... Poi la stessa stessa, io faccio tutto qua. No, volevo dirti un rispetto... Questo non c'è un po' di colla, calma, magari... Eh, gliel'avevo dito alla Cattina che si è messa lì ieri, ha sistemato, ha usato un diadhesivo. Non l'ha visto da caso. Vabbè, la cosa è non ti tocca, insomma la devo portare a questo da caso. Li metto io un po' di collo su qua. Praticamente cosa succede? Qui, in sostanza, questo la presenterebbe il suo specchio, hai capito? Sì, sì, sì. E questo è un lavorino che ha fatto la catenità con il pirogro. Sì, sì, sì. Che l'ho fatto sempre durante l'ordine, va bene, la scrittura. Qui ho quel testo di... Quello che non basta, ma bene, lo mettiamo poi attaccato. No, no, tu dici no, non so. Allora, hai fatto anche questo che ho detto, ma andi, se questo lo vuoi togliere, vedete, nessuno... Allora, ho visto tutto come l'hai fatto. Come lo attacco e ci metto questa in un anno, lo dobbiamo nessuno la tocca, però con le lettere, con le lettere, con le lettere, con le lettere. Ok, poi che porto un supporto per questo lì? Per questo, no? Sì. Lo metto sul... Vabbè, è stotto come dai... Sì, mi è venuta stampata, ma il vuoi che te lo stampo? Se non gli stampi, il dito è meglio. Sì. Sai cosa devi fare? Sulla stampata, metti un libro, come ho fatto io. Ah, dici te. Sopra, in modo che quando prendi il foglio, il foglio non fa così. E io gli ho detto, tu ti metti il libro e quello rimane bloccato. Allora, perfetto, brava. Ok, Francesco, siamo a posto allora? A posto così. Allora, ci vediamo domenica mattina. Sì, sì.